Ciao ragazzi, non so come mai, ma ogni volta che faccio merenda mi ritrovo cacca all'estate Ok, non è successo niente, per fortuna Comunque oggi ho deciso di imbrogliarla sulla merenda e di organizzarle questo scherzo Vi servono dei biscotti, così, per esempio, quelli con dentro lo zucchero o qualcosa di dolce Li dovete aprire, svuotarli completamente e ne vedetevi di identifico Ed è praticamente identica come situazione, vedete? Anzi, sembrano più buoni Tac, e il gioco è fatto L'hanno attaccato al contrario Leumagghiotto per questi biscotti Ci sta arrivando, sta arrivando Ti ho amato che stai mangiando, è passato Senza di me, con il marello Non mi chiami? Merda Ma ogni volta mi devi rubare la merenda da bocca Non è vero, ma sarei stronzo Anche io, va delicato Che cazzo ne hai messo, non è passato Il dentifricio Vai Oltretutto sei arrivata troppo in fretta, quando ti ho lanciato il dentifricio No Torrendo, no, lascia stare È orrendo, è orrendo Sì, è orrendo Senti calito fresco che ha, cazzo dovremmo limonare Sì, 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 sì Ma il tuo frutto è un corno Dammi la mia merenda Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì